Per creare il nostro nuovo sito, ci siamo rivolti ai massimi esperti del settore. Abbiamo chiesto a nonna Angela di creare Dotti, il nuovo chatbot che ti guida nella scelta dei nostri prodotti. Chi meglio di una nonna sa cosa è meglio per te. E poi Silvia, che ha studiato come parlare con la banca attraverso il sito. Solo lei riesce a gestire 12 gruppi di WhatsApp, i messaggi di Riccardo, le telefonate di mamma e anche quelle di Mattia. Tommaso invece ci ha aiutato a progettare una navigazione mobile friendly. Un papà a tempo pieno come lui deve sempre avere tutto a portata di mano. Infine il buon Sebastiano, che ha seguito ogni fase del progetto dal primo all'ultimo passo. La sua grande esperienza è stata davvero preziosa. Il nuovo Beeper.it è online, un sito fatto con le persone, per le persone.